ciao a tutti eccomi qua con un nuovo video è da un po di tempo che non faccio video e voglio riprendere in mano il canale ogni tanto ma questa volta vi voglio far vedere un trend che sta spopolando molto sui social e questa volta però ve lo voglio far vedere con un altro programma che è molto più semplice e soprattutto potete anche ritoccarlo ed è il programma con cui io ho una collaborazione ed ecco qua guardate quello che realizzo facendo proprio le immagini che vanno sui social prima di fare questo video ovviamente io ho fatto un po di prove per cercare di vedere di capire un po come funziona ho fatto tante prove e ho capito che bisogna particolarmente scrivere in inglese e vi faccio vedere adesso nel dettaglio con questo tutorial intanto ci leghiamo sul computer eccomi qua con questo tutorial come vi ho fatto vedere nell'anteprima andiamo a utilizzare il sito in questione e andiamo a realizzare uno dei trend che sta girando molto sui social questo sito penso che sia utile per andare a ritoccare anche l'immagine e potessi divertire anche facendo un video per chi non lo sa io ho una collaborazione con questo sito dove grazie al mio codice sconto voi potete semplicemente avere uno sconto sull'abbonamento del 20 per cento nel mio nel mio canale troverete tanti video inerenti e tanti tutorial inerenti a questo sito incidente questione è questo vedete io ho la registrazione o l'abbonamento e voi qua avete tutto quello che vi può essere utile per lavorare online soprattutto con i social questo sito non sostituisce photoshop però è un buono strumento che può essere utilizzato per chi non utilizza photoshop perché è un sito abbastanza utile ora passiamo al nostro video e vi faccio vedere quello che si può fare sempre con questo sito trovate tanti tutorial sempre nel mio canale allora oggi andiamo a vedere come realizzare delle immagini vedete con il generatore di immagine guardate che carino che che sono uscite queste immagini qui vedete ho fatto varie prove per cercare di capire come funziona e questo è inerente al trend che sta spopolando sui social però avendo una collaborazione che ho con questo sito ho voluto testare anche il sito e guardate questo è l'effetto che mi piace ed è venuto molto molto carino il consiglio che vi do nell'utilizzo di questo di questo sistema è di scrivere in inglese vedete dovete fare una descrizione in inglese perché andando a fare descrizione in italiano mi vengono fuori diciamo cose che io poi non voglio e che non mi sono piaciute ad esempio qui avevo scritto poster disney e vedete qui ha messo la la di formata e poi l'albero di natale me l'ha fatto in questo modo vedete dovete cercare di scrivere in inglese quindi io mi sono messa vedete a disposizione il traduttore andiamo a realizzare un'immagine insieme allora per poter fare questo sicuramente dovete iscrivervi a questa piattaforma nella descrizione di questa piattaforma qui dovete andare a mettere x quindi quando andate nell'applicazione web qui in alto dovete mettere pixel x perché vi dovete vedere qui a disposizione ai generator perché guardate se vado in pixel r e non ho la funzione generator qui della i quindi dobbiamo andare nella funzione pixel x ecco qui e vi trovate ai generator ok adesso come funziona andiamo allora lui qui ci dà già un testo a disposizione e ci dice che dobbiamo fare una descrizione e dobbiamo rimuovere quello che non vogliamo allora sicuramente la rimozione la sapete quando vi ha generato le prime immagini perché da lì vi rendete conto se c'è qualcosa che non mi interessa andiamo a mettere qua cancella quindi a riscrivere tutto il nostro testo io mi sono creata un testo vedete eccolo qua con queste descrizioni crea un'immagine 3d in stile pixar una donna con i capelli biondi e lunghi occhi grandi senza occhiali indossa una felpa rosa seduta alla scrivania pc portatile sfondo natalizio andiamo a prendere adesso adesso lo andiamo a cambiare vediamo se ci esce diversamente scriviamo sempre crea un'immagine in 3d stile pixar punto così lui sa che deve fare questa una donna con i capelli biondi mossi vediamo occhi grandi senza occhiali indossa una felpa a un pc portatile della apple che fa grafica mettiamo sfondo natalizio con albero di natale prendiamo questo testo e andiamo a copiarcelo e andiamo a portarci nel nostro traduttore andiamo qua e ci inseriamo il nostro testo e lo incolliamo andiamo a copiarci questa traduzione e la andiamo a inserire nella descrizione ok vedete abbiamo messo questo andiamo a vedere se facciamo generate che cosa ci esce ok vedete sembra una cosa carina però io non voglio gli occhiali quindi dobbiamo andare a mettere rimuovi quindi torno sempre sul mio testo che ho fatto e gli scrivo non deve avere gli occhiali non deve avere i capelli ricci non deve avere i capelli rossi io l'ho già tradotto ma uso direttamente questo testo e vado a metterlo nel rimuovi inseriamo qua e andiamo a fare generate come vedete mi ha fatto l'immagine senza occhiali ovviamente qua è venuta male l'immagine me l'ha fatta male qui non mi piace molto qua dovete utilizzare diciamo delle cose un pochettino più carine questa qua sembra carina proviamo a cliccare variazioni e qui ci genera vedete altre immagini l'ho cliccata per due volte e vedete ha fatto su quello delle variazioni questa sembra carina però questi occhiali sinceramente io non li vorrei pure questa sembra carina eliminiamo must not questo qua del dei capelli ricci vediamo un po come ci esce mettiamo solamente che non voglio gli occhiali andiamo a fare generate allora vedete sembra carino però sinceramente questi occhi non mi piacciono andiamo a riscrivere il testo tutto sta nella formula del testo allora crea un'immagine una donna con i capelli biondi e mossi occhi grandi scriviamo cartone animato senza occhiali indossa una felpa rosa come scriviamo con un macbook scriviamo così che lavora scriviamo che lavora come grafico pubblicitario vediamo sfondo natalizio con albero di natale poi qua scriviamo in quello che deve essere rimosso non deve avere gli occhiali mettiamo capelli biondi e lisci mettiamo così non deve avere gli occhiali non deve avere capelli ricci e scriviamo così ok ora ci andiamo a selezionare questo testo e lo andiamo a tradurre incolliamo ok andiamo a inserire qui la traduzione ora devo andarmi a fare la traduzione di quest'altro testo lo copiamo e lo inseriamo inseriamo nel rimuovi andiamo a fare generate ok vedete già quanto è carino questo mi piace vediamo se ci fa qualche variazione da qua ecco qua vedete sempre venuto meglio questo qua è venuto molto carino e andiamo a fare qui ok qui ci siamo aperti la nostra immagine voi su questa immagine adesso potete aggiungere un po di testo possiamo andare a mettere anche buon natale allora io avendo l'abbonamento andiamo a utilizzare le scritte a pagamento me lo inserisco qui vedete e scriviamo andiamo a cliccare sul testo e scriviamo buon chiamo sull'altro e scrivendo qua natale e qui ovviamente voi andate a cambiare i colori che abbiamo qua vedete qua questo è un doppio livello e ce l'andiamo a mettere così qua e possiamo fare la dimensione un po più grande un po più piccola poi andiamo ad aggiungere su questo livello qui tanto ce lo duplichiamo quindi andiamo a fare duplica questo su quello questo di sotto ce lo disattiviamo andiamo ad aggiungere un po di filtri andiamo su regolazioni e ne a mettere un po vedete i colori vedete qua voi potete regolare i colori mettere la saturazione un po più a più alta possiamo andare a fare la stessa cosa per le luci vedete per andare a luminosi a fare luminoso un po il tutto e possiamo vedete avendo il livello sottofermo andare su all sull'animazione qui e andare a mettere un animazione in questo modo ok chiudiamo qua andiamo a fare qui salva andiamo a salvare il nostro file ovviamente non andiamo a salvare consigliato quindi come ci dice qua voi potete decidere se lo volete veloce lo lasciamo a 1x e facciamo salva come non lo fa salvare perché dobbiamo mettere qua attiva questa questa qui facciamo chiudi chiudi e facciamo salva adesso qui scriviamo il nome e scriviamo disegno ai disegno video scriviamo ai salva vedete adesso ci dovrebbe salvare il nostro video ecco qua vedete sta caricando aspettiamo che lui ci salva il nostro file e poi lo andiamo ad aprire ok andiamo a vedere il nostro video ecco qua il nostro video premiamo ecco qua guardate video fatto semplicemente con il sito pixel vi ricordo che se volete iscrivervi a questo video nel mio canale trovate tanti tutorial per questo sito e con il mio codice sconto potete avere anche uno sconto del 20 per cento sull'abbonamento è un'alternativa a photoshop che sicuramente è molto utile se lavoriamo soprattutto con i social noi ci vediamo al prossimo video spero che vi sia piaciuto grazie ciao a tutti 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 ciao a tutti